Buonasera e benvenuti alla seconda stazione della trilogia dantesca organizzata dall'ICI e dall'Istituto di Cultura Italiano di Berlino. Più o meno dieci giorni fa in questa stessa sala abbiamo assistito per bocca di due attori e con dietro un'elaborazione drammaturgica un dialogo possibile e impossibile tra Dante e Peter Weiss. Oggi continuiamo a dialogare, questa volta con Antonella Anedda e Emanuele Gragnolati. Sì, allora, scusiamo, chiudiamo la porta. Una brevissima presentazione, credo che molti di voi conosceranno già e avranno letto i libri di Antonella Anedda. Antonella Anedda è scrittrice, saggista, che ha collaborato e collabora con giornali e riviste come il Manifesto Linea d'Ombra, leggendaria, ma anche in internet con doppio zero. Hai fatto. Ed è docente universitaria. Antonella Anedda però è soprattutto un poeta. ed è una delle voci più raffinate, forti e pure della poesia italiana contemporanea. E a proposito di lingua e di lingua italiana, vorrei notare una cosa che ritornerà nel nostro dialogo. Antonella Anedda vive a Roma, ma ha delle origini e ha un grande legame con la lingua, i luoghi e la cultura sarda. E con quella che lei chiama la limba madre, la lingua materna. E su questo noi ritorneremo. Sono molte le raccolte diverse di Antonella. La sua prima raccolta, Residenze invernali, è del 1992. E subito ha preso tre premi per Residenze invernali. Sono seguite altre raccolte, non le ricordo tutte. Ricordo solo Notte di pace occidentale dal balcone del corpo del 2007. E l'ultimo libro scritto da Antonella Anedda non è di poesia ma di prosa. E si chiama Isolatria, è del 2013 ed è un viaggio tra le isole della Maddalena, l'arcipelago. Ho già detto i premi. Allora, tre per l'esordio. Ne ricordo solo altri due, che sono il premio Montale nel 2000 e il premio Napoli nel 2007. Ma ce ne sono anche altri. Veniamo a Manuele. Manuele Gragnolati, che oltre ad essere un mio caro amico, questo non c'entra, ma c'entra perché è nato in questo spazio dell'ICI molto una parte della discussione sul lavoro e del lavoro che è precedente al libro Amor che muove, che ci muove a essere tutti insieme qua stasera. Manuele è laureato in filologia classica a Pavia ed emigra dopo essersi laureato a Pavia. Consegue un master in italianistica a Parigi, un dottorato in medievistica alla Columbia University. Lavora e insegna in America e al momento è professore di letteratura medievale italiana ad Oxford e fellow del Somerville College. Anche l'Emanuele ha scritto una serie di saggi sia su Dante sia su quella che è la letteratura contemporanea. Anche qui non li ennumero tutti, anzi solo due. Uno credo che sia molto importante perché è un po' un primo passo verso il libro, è l'Experience in the afterlife, anima e corpo in Dante e nella cultura medievale e poi abbiamo Amor che muove, uscito l'anno scorso presso i tipi del saggiatore nel 2013. Ora, ed è il libro, questo libro che ci ha mosso a incontrarci. In Amor che muove Manuele mette in relazione Dante, Pierpaolo Pasolini e Elsa Morante e le persone che hanno seguito il lavoro dell'ISI in questi anni sanno quanto intorno a Pasolini e a Elsa Morante qui è stato fatto in varie forme, come libri, come convegni, anche come performance. Per cui è questo incontro del dantista con i due grandi scrittori del Novecento italiano è proprio una parte dell'anima dell'ISI, anche perché non ho dimenticato, ma lo dico ora, Manuele è anche una delle anime dell'ISI, ossia il vice direttore, anche formalmente il vice direttore dell'ICI. Per introdurre il nostro dialogo, nel libro abbiamo...